Vi invito a seguire Facciamo Finta Che su tutti i social, un abbraccio anche a Giovane Mesbet che ci ha diretto in regia, come al solito, un abbraccio a tutti quanti voi che ci siete sempre, veramente un gruppo di amici, siamo una squadra e Facciamo Finta Che è partito come un mio progetto ma è sempre più vostro, quindi in realtà mi fa un sacco piacere vedere che cresce, merito di tutti. Un abbraccio a Davide, il mio consueto Ari Krishna. Io vi ringrazio e devo dire che effettivamente Facciamo Finta Che, io lo seguo, sono un vostro ascoltatore, un videoascoltatore veramente fedele e devo dire che rispetto ad altre realtà, anche esse belle, però voi state davvero costruendo una comunità, mi sembra di avere colto e questo è una cosa straordinaria perché come tu hai detto va benissimo lo schermo, in questi anni è stato fondamentale poter ascoltare e poter comunicare. attraverso questo strumento, ma la presenza fisica è impagabile e abbiamo bisogno di conoscerci guardandoci in faccia e costruendo delle reti, quindi veramente complimenti e grazie ancora.